Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Risponderemo con competenze, voglie di fare e priorità programmatiche. Avellino deve riscattarsi dalle scelte denigranti compiute in passato. Noi siamo pronti e gli elettori sapranno apprezzarci. Che dire? Vedremo se al Comune, come promette l'On. Pallini, andranno amministratori svegli e preparati oppure se anche i grillini ci regaleranno altri palloni gonfiati. Grazie a tutti.